questa è una grande cappella signorina l'ora del tè andiamo col bolide sono fighi viola però una sola pedana perché l'altra l'ho rotta perché praticamente una volta mi sono incazzato dopo che si è spento 15 volte allora quando si è spenta la quindicesima volta in mezzo alla strada con tutta la gente che mi guardava ho urlato un bestemmione e l'ho lanciato così di prepotenza e è esplosa la pedana è una storia vera andiamo sei pronta fa caldo ma l'hai visto il tuo specchietto che mira su di me perché se io lo metto per guardare dietro diventa un po mollo oppla e guarda che questo scooter è uno scooter non sono bello mafiaggio che lento guarda sono io dai le chiavi ho detto mi dai le chiavi sempre lei eh aspetta che sono nel culo sei pronta a una guida spericolata no Matteo sembri mia madre uno due tre quattro cinque sei sombola com'è stato? no a parte mia famiglia ok sono arrivati i miei amici ecco oh email o oh le noccioline sono cadute le noccioline la documentazione aspetta la nocciolinazione non mi ricordo assolutamente come si faccia è un problema oh sono scomodo si oh è troppo male madonna ma non me lo ricordavo così un quarto oh oh no 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 oh madonna e adesso e adesso oh oh ma cosa dici ma un macello no 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 in mio telefono ho la mascherina allora lui c'ha la mano rotta io ci ho perso la caviglia a calcio e questa stai parlando grazie sotto c'è il ghiaccio quello è tutto scotch di carta ce l'ho grovigliato intorno e non sono coglione ero già in moto madonna io come cazzo faccio manovra ora con un po' forza sono il dottor house dei motociclisti ti stava entrando nel culo bello ma io penso male la caviglia buongiorno buongiorno piacere piacere francesca mmm allora penso di aver sbagliato strada ahahah ciao davvero che lavoro di merda oh ma accelera da sola che bello come mi mancava la mia targa è intera? no non ce l'hai più sta già piovendo sta già piovendo ahhhhhh 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 che si passa? si ferma si ferma si ferma si ferma si ferma c'è nulla di male c'è nulla di male so che potete essere ripresi basta non venga divulgato voce faccia qualunque cosa assolutamente non è che cosa ho il polvio che mi ha mandato io la voglio rivolgere verso la porta è rivolta verso la porta no ma che vuoi la voglio rivolgere la telecamera non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta online bene bene il più grosso il più grosso comunque potete essere ripresi non c'è nulla di male in servizio potete comunque il primo giro già serve si cosa c'è? l'assicurazione eh la vedo andata arga c'è si 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 l'ho visto arrivare ma guardato da lì a laggiù finchè non si è fermato non so chi sei come è andato il primo giro aspetta vedete secondo te non l'ho fatta la poter vedere il primo giro che sono da nostra grande ma te non esco più con me non fermato mai una volta esco con te otto e di molte sequenze e con questo che ti diverti fra potremmo sempre morire ma perché non abbiamo preso l'autostrada ma questo è tipo 1 euro ma non 1 euro ok